la seconda lettera di pietro questa mattina seconda lettera di pietro capitolo 1 leggerò dal versetto 3 al versetto 4 seconda pietro capitolo 1 versetto 3 versetto 4 pietro scrive la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza l'apostolo pietro che scrive questa lettera una lettera breve ma così ricca e fondamentale abbiamo visto due domeniche fa pietro si introduce come schiavo schiavo di cristo sottomesso sottomesso a cristo come suo padrone signore pietro è non solo schiavo di cristo ma apostolo inviato questa sua autorità apostolica di scrivere questa lettera per edificare i credenti alla luce del pericolo dei falsi insegnanti abbiamo anche compreso chi sono i destinatari di questa lettera soprattutto pietro descrive i destinatari non semplicemente come coloro che hanno creduto in cristo ma coloro che hanno ricevuto la fede la fede è un dono di dio la stessa fede di pietro degli apostoli dei giudei era fede che avevano i gentili una fede ricevuta per grazia possibile nella giustizia di gesù cristo grazie al suo sacrificio sostitutivo noi giustificati in cristo per fede ma quella stessa fede è un dono ricevuto in virtù del sangue di cristo e poi pietro abbiamo visto il versetto 2 inizia questa lettera con questo saluto d'apertura e scrive grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di dio di gesù il nostro signore pietro prega finché la grazia e la pace siano moltiplicate ed è possibile grazie la conoscenza di dio e di gesù crescere nella conoscenza di cristo è fondamentale per poter gustare la grazia di dio la pace di dio e poter affrontare la vita quotidiana ma pietro che scrive questa lettera ci mostra lo scopo l'intento nel scrivere questa lettera capitolo 3 versetto 17 18 dice voi dunque carissimi sapendo già queste cose state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro signore e salvatore gesù cristo pietro scrive questa lettera per sortare i credenti a crescere nella grazia di dio a crescere nella conoscenza di cristo per affrontare il falso insegnamento i falsi insegnanti per essere salti e fermi l'importanza di continuare a crescere nella conoscenza di dio attraverso la scrittura per poter essere fedeli nel cammino e raffrontare i falsi insegnanti pietro in questa lettera parla di tre temi principali come ricordate il primo tema di cui parla pietro primo capitolo dal versetto 3 al versetto 21 è questo la natura della vita cristiana la natura della vita cristiana dopo di che il capitolo 2 parlerà dei falsi insegnanti l'avvertimento contro i falsi insegnanti per un intero capitolo parla dei falsi insegnanti focalizzandosi sull'atteggiamento dei falsi insegnanti e poi al capitolo 3 l'avvenuta del giorno del signore tre temi importanti inizia però questa lettera parlando della vita cristiana inizia parlando della vita cristiana e questa mattina inizieremo proprio questo paragrafo dal versetto 3 al versetto 21 focalizzato sulla natura della vita cristiana e prima di avvertire riguardo i falsi insegnanti pietro ritiene opportuno parlare della vita cristiana in cosa consiste la vita cristiana e vedremo questa vita cristiana che si fonda sulla testimonianza apostolica di Cristo e sulla parola profetica questo lo vedremo nei dettagli inizia parlando della vita cristiana fondamentale per affrontare i falsi insegnamenti per avere discernimento per essere saldi e fermi per non essere sballottati dai falsi insegnamenti ma prima di esortare per quanto riguarda la vita cristiana pietro fa qualcosa di fondamentale in questo contesto in cui parlerà della vita cristiana esorterà inizia con due versetti cruciali fondamentali in questi due versetti 3 4 che ho appena letto pietro si focalizza prima di ogni cosa su quello che è il fondamento per la vita cristiana come possibile per un credente vivere in modo fedele in modo cristiano questa mattina vedremo qual è il fondamento perché ci sia una vita cristiana pietro in questi due versetti parlerà del dono divino della salvezza il dono divino della salvezza fratelli e sorelle amici è il fondamento per la vita cristiana pietro d'altronde ha iniziato questa lettera ricordate enfatizzando la natura della fede dei credenti un dono di dio e ora prima di esortare i credenti ricorda il dono divino della salvezza se notate al versetto 5 che vedremo la prossima domenica pietro dirà questo ascoltate bene la terminologia versetto 5 voi per questa stessa ragione mettendoci da parte vostra ogni impegno aggiungete alla vostra fede la virtù la virtù la conoscenza e poi prosegue nei dettagli parlando della vita cristiana ma inizi dicendo voi per questa stessa ragione a cosa si riferisce al versetto 3 e al versetto 4 alla luce e a motivo del dono divino della salvezza i credenti ora sono chiamati ad impegnarsi per vivere la loro vita cristiana per questa ragione voi ora mettendoci da parte vostra ogni impegno ecco la responsabilità di ciascun credente ma alla luce del dono divino della salvezza fratelli questa mattina scopriremo in che modo possiamo vivere la vita cristiana non grazie le nostre forze non è un processo umano ma è possibile alla luce del dono divino della salvezza in altre parole pietro ci mostrerà che il dono divino della salvezza è perfettamente sufficiente per la vita cristiana la grazia salvifica è perfettamente sufficiente per vivere come cristiani di conseguenza vedremo ogni credente salvato ha la responsabilità di impegnarsi di sforzarsi di essere determinato alla luce del dono divino della salvezza purtroppo c'è questa idea un po' strana che essendo salvati per grazia non dobbiamo sforzarci nel nostro cammino non ci deve essere una disciplina una determinazione questo è falso falso la scrittura con tutte le varie esortazioni ci mostra ciò pensiamo l'apostolo paolo ma quella nostra determinazione il nostro impegno è possibile in virtù del dono divino della salvezza di conseguenza pietro dirà voi quindi per questa ragione mettendoci da parte vostra ogni impegno la santificazione la vita cristiana è possibile a motivo dell'opera salvifica quali sono alcune implicazioni di questa verità un credente salvato se non cammina in modo fedele non è perché la grazia di Dio non è sufficiente ma è perché non c'è un impegno da parte sua è perché non c'è la volontà di ubbidire è la volontà di rinunciare a se stesso o di confessare i peccati e abbandonare i peccati o di esaminare se stesso costantemente perché il dono divino della salvezza vedremo è perfettamente sufficiente per vivere la vita cristiana questo svelerà che se c'è una mancanza nel cammino non è dovuto al fatto che Dio non ha operato in modo completo o perché c'è ancora qualcosa che Dio deve donarci misticamente attendendo qualcosa dal cielo no la grazia di Dio è perfettamente sufficiente quindi l'incoraggiamento è che sì possiamo vivere in Cristo possiamo trionfare sul peccato possiamo questo ricorda quello che Paolo stesso disse ai romani d'altronde i romani 6 che abbiamo visto nei dettagli in passato i romani 6 dal versetto 1 al versetto 11 Paolo ricorda il credente che è salvato è unito a Cristo è morto al peccato vivente a Dio infatti riassume ciò al versetto 11 quando dice così anche voi fate conto di essere morti al peccato ma viventi a Dio in Cristo Gesù dice consideratevi morti al peccato ma viventi a Dio questa è la vostra identità versetto 12 dunque non regni il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire le sue concupiscenze le sue concupiscenze e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio il credente in Cristo può perché è unito a Cristo è morto al peccato è vivente a Dio ora aspetta a lui in vista a motivo di quell'opera salvifica impegnarsi per ubbidire e per camminare fedelmente Pietro prima di esortare a quello che è il cammino la vita cristiana presenta il fondamento affinché ci sia una vita cristiana il credente può non perché saggio in se stesso ma a motivo del dono divino della salvezza di questo parliamo questa mattina prima cosa consideriamo la natura del dono divino la natura del dono divino della salvezza poi vedremo il mezzo per ricevere il dono divino e poi il risultato del dono divino prima cosa la natura del dono divino il mezzo per ricevere il dono divino e vedremo il risultato del dono divino iniziamo considerando la natura del dono divino della salvezza Pietro inizia letteralmente dicendo questo come la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà fermiamoci qui per un attimo come la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà inizia dicendo come qui si sta legando al versetto 5 in altre parole sta dicendo siccome la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà voi per questa ragione aggiungendo mettendoci da parte vostra il vostro impegno aggiungete la vostra fede la virtù, la virtù, la conoscenza e così via siccome la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà ora noi possiamo impegnarci per vivere la vita cristiana non solo in questa frase che ho appena letto la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà ci sono alcuni dettagli che vorrei considerare brevemente uno alla volta il primo è questo pietro nel testo greco inizia dicendo tutto tutto ogni cosa o tutte le cose qui tradotto ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita tutto inizia dicendo ogni cosa tutte le cose c'è questa grande enfasi su ogni cosa tutte le cose che ci sono state donate niente scuso non manca nulla questa è l'enfasi ogni cosa tutte le cose un altro dettaglio la sua potenza divina qui si riferisce a Cristo perché versetto 2 termina dicendo grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù il nostro Signore la sua potenza divina qui parla della potenza divina di Cristo Cristo è Dio e si focalizza sulla sua potenza soprannaturale la sorgente di tutte le cose ogni cosa tutte la sua potenza divina di Cristo è la sorgente di tutte queste cose un altro dettaglio ci ha donato questo verbo donare è un verbo che significa dare gratuitamente dare gratuitamente un dono la potenza divina di Cristo è il soggetto di questo verbo la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose ogni cosa nulla manca al credente niente la potenza di Cristo questa potenza soprannaturale è la sorgente di tutte le cose e ora quarto dettaglio specifico di quale cosa parla qui dice Pietro tutto ciò che riguarda la vita e la pietà la potenza divina ha provveduto ogni cosa senza nessun limite come dono gratuito e queste cose sono spirituali riguardano la vita e la pietà la vita e la pietà qui parla di vita si riferisce alla vita spirituale alla vita in Cristo alla vita eterna la potenza divina ci ha donato gratuitamente tutto ciò che ci permette di vivere una vita spirituale la potenza divina di Cristo ci ha donato tutto ciò che ci permette di vivere una vita spirituale il dono della salvezza della vita spirituale è il risultato della potenza divina di Cristo non di una scelta umana coloro che erano morti spiritualmente ora sono vivi come risultato della potenza sopranaturale di Cristo che ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà questo termine donare dare gratuitamente che dimostra che è un dono permanente per sempre il credente ha una vita nuova in Cristo come risultato della potenza di Dio e di conseguenza possiede tutto ciò che è necessario per la vita spirituale e per perseverare sino alla fine questo è quello che Pedro dice non solo la vita spirituale non solo questa capacità di vivere questa vita di perseverare ma aggiunge la pietà tutto ciò che riguarda la vita è la pietà questo termine si riferisce alla devozione a Dio una vita devota a Dio è vissuta per piacere a Lui per ubbidire a Lui Cristo nella sua potenza divina soprannaturale ha provveduto tutto ciò che è necessario per la vita spirituale e per la devozione a Dio per la consacrazione a Dio perché ci sia ubbidienza a Dio il dono divino della salvezza consiste nell'aver ricevuto la vita spirituale e la pietà la devozione il dono divino della salvezza è perfettamente sufficiente per quanto riguarda la vita spirituale e per quanto riguarda la pietà la condotta la devozione l'ubbidienza la santificazione la potenza divina di Cristo provvede tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la salvezza per la vita spirituale e per la pietà per la consacrazione a Dio per la condotta ma condotta spirituale la salvezza non è il risultato di un'esperienza emotiva non è semplicemente una decisione non è semplicemente un'affermazione ma è il frutto della potenza divina di Cristo fratelli e sorelle è un'opera soprannaturale miracolosa infatti coloro che erano morti spiritualmente morti e empi ora sono vivi e devoti al Signore come è possibile come è possibile che un morto diventi vivo come è possibile che un empio adori il Signore devoto al Signore e viva una vita pia la potenza divina di Cristo il frutto della potenza divina di Cristo il quale ci ha donato nella sua potenza tutto ciò che ci permette di vivere una vita spirituale di perseverare e di vivere devoti e obbedienti al Signore la potenza divina di Cristo è l'unica sorgente per la vita spirituale e per una condotta spirituale la potenza divina di Cristo è sufficiente per la vita cristiana non ci manca nulla fratelli israeli nulla da aggiungere perché ha provveduto tutto ciò che è necessario per vivere per essere devoti il credente non ha bisogno di attendere qualcos'altro per vivere la sua vita cristiana un evento mistico la potenza di Dio che scende dal cielo no Dio ha già operato fratelli e sorelle è magnifico in Cristo possiamo quante volte il credente si giustifica non so come mai non riesco a fare questo e quest'altro e prega a Dio finché Dio intervenga la risposta è Dio ha già operato Dio ha già operato e di conseguenza siamo noi essere mancanti ma perché la potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita spirituale e la devozione se c'è qualche mancanza è dovuta alle nostre mancanze alla nostra mancanza di obbedienza il credente può vivere la vita cristiana a motivo della potenza di Dio questo dono permanente da parte di Cristo questo dono permanente sufficiente la grazia salvifica è il fondamento del nostro cammino quando Pietro esorterà non sta esortando un gruppo di persone affinché si sforzino sta esortando coloro che hanno la forza e che sono chiamati a sforzarsi a impegnarsi a essere disciplinati a essere determinati possono perché hanno ricevuto tutto ciò che riguarda la vita e la pietà e possono affrontare i falsi insegnamenti possono essere saldi di fronte ai falsi insegnamenti di cui parlerà il capitolo 2 ma perché a motivo della potenza divina di Cristo abbiamo visto la natura del dono divino in cosa consiste il dono divino della salvezza ora passiamo a quello che è il mezzo il mezzo per ricevere il dono divino in che modo la potenza divina di Cristo ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà in che modo in che modo il mezzo per ricevere il dono divino abbiamo compreso che la potenza divina di Cristo è la sorgente che ci dona tutto ciò che riguarda la vita e la pietà abbiamo compreso in cosa consiste il dono divino il credente può vivere la vita spirituale può essere devoto perché è a motivo della potenza di Cristo ma ora vogliamo comprendere in che modo Pietro scrive la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù in che modo abbiamo ricevuto tutto ciò che riguarda la vita e la pietà in che modo siamo giunti a vivere spiritualmente a essere devoti al Signore in che modo mediante la conoscenza salvifica di Cristo mediante una conoscenza intima personale salvifica di Cristo qui si riferisce alla conversione la potenza divina ci dona tutto ciò che riguarda la vita e la pietà ma in che modo mediante la conoscenza di Cristo nel contesto comprendiamo che si riferisce a Cristo aggiunge infatti che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù ma attenzione quando dice mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati non si riferisce ad una conoscenza intellettuale una conoscenza mentale o religiosa no perché aggiunge mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati questa è una conoscenza servifica di colui che ci ha chiamati quando parla di chiamati cosa si riferisce? beh non all'evangelizzazione ma a questa chiamata sovrana di Dio efficace irresistibile interiore che ci porta a conoscere Cristo servificamente non in modo religioso come molte persone e mediante questa chiamata irresistibile efficace sovrana Pietro parla di ciò per esempio nella sua prima lettera prima Pietro 2 9 diverse volte usa questo termine Pietro prima Pietro 1 2 2 9 prima Pietro 2 9 ma voi siete una stirpe letta un sacerdozio regale una gente santa un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa questa è la chiamata salvifica passare dalle tenebre alla luce mediante questa sua chiamata 5 10 prima Pietro 5 10 ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna non siamo noi attraverso il nostro sforzo che giungiamo alla sua gloria eterna ma è lui che ci ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo questa è una chiamata sovrana irresistibile interiore efficace e mediante questa conoscenza salvifica di Cristo che abbiamo ricevuto tutto ciò che riguarda la vita e la pietà colui che è chiamato salvificamente da Cristo conosce Cristo salvificamente possiede tutto ciò che riguarda la vita e la pietà è devoto e vive una vita spirituale colui che ci ha chiamati dice con la propria gloria e virtù Cristo ci ha chiamati sovranamente in modo efficace con la propria gloria e virtù qui si riferisce alla sua gloria chi lui è la sua divinità e la sua virtù si riferisce alla sua eccellenza morale alla sua eccellenza morale quando si predica il sano vangelo biblico quel vangelo si focalizza su Cristo ed è attraverso quel vangelo che Cristo manifesta la sua gloria la sua divinità e la sua perfezione lui Dio incarnato perfettamente ubbidiente al padre Filippesi 2 per esempio Cristo manifesta la sua gloria la sua divinità e la sua eccellenza morale attraverso il vangelo ed è attraverso questa conoscenza salvifica di Cristo attraverso il vangelo proclamato che manifesta chi è Cristo che abbiamo ricevuto tutto ciò che riguarda la vita la pietà il dono divino della salvezza è possibile mediante la conoscenza salvifica di Cristo il quale ci ha chiamati con la propria gloria e virtù e poi aggiunge versetto 4 alla prima parte attraverso queste attraverso la gloria di Cristo le sue virtù le sue virtù ci sono state elargite dice letteralmente ci ha donato Cristo ci ha donato le sue preziose e grandissime promesse qui usa lo stesso verbo donare del versetto 8 attraverso la sua gloria e virtù Cristo ci ha donato permanentemente per sempre le sue preziose e grandissime promesse e mediante la conoscenza salvifica di Cristo mediante il Vangelo mediante il Vangelo che proclama la gloria di Cristo e la sua virtù che abbiamo ricevuto permanentemente le sue preziose e grandissime promesse qui si riferisce alle promesse salvifiche il Vangelo la salvezza in Cristo la certezza della salvezza in Cristo l'adempimento e futuro e completo della salvezza di cui parlerà il capitolo 3 queste promesse che riguardano la salvezza in Cristo la nostra continua perseveranza prima a Pietro 5 e 10 la certezza di giungere fino alla fine e del nostro futuro glorioso quando Cristo tornerà ci ha allargito queste promesse siamo beneficiari di queste promesse preziose di grande valore e grandissime eccellenti il dono divino della salvezza è possibile per mezzo della conoscenza salvifica di Cristo mediante il Vangelo e per mezzo di questa conoscenza salvifica di Cristo per il metodo del Vangelo abbiamo ricevuto per grazie queste promesse preziose grandissime queste promesse salvifiche cosa significa tutto questo? lo ascoltate bene conoscere Cristo salvificamente implica che il credente ha una vita spirituale e vive piamente se grazie alla conoscenza di Cristo che riceviamo tutto ciò che riguarda la pietà e la vita significa che colui che conosce davvero Cristo manifesta ciò come vivendo spiritualmente devoto devoto al Signore questo dice il testo biblico se Cristo ci ha donato ribadisco tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante una conoscenza salvifica di Cristo significa che colui che conosce Cristo ha una vita spirituale che manifesta conforme la parola è devoto al Signore rinuncia a se stesso c'è una nuova vita non è possibile conoscere Cristo salvificamente e allo stesso tempo non avere una vita spirituale non essere devoto al Signore è impossibile perché per mezzo della conoscenza salvifica di Cristo che riceviamo tutto ciò che riguarda la vita è la pietà conoscere Cristo salvificamente implica che il credente ha una vita spirituale manifesta questa sua conoscenza attraverso la sua vita e attraverso la sua devozione al Signore voglio mostrarvi una cosa la conferma che troviamo di questa verità nel resto del Nuo Testamento è importante questo nel nostro contesto evangelico basta affermare di conoscere Cristo basta una sorta di preghiera nell'incontro evangelistico basta una pacca sulla spalla basta entrare in un luogo per essere salvato falso è un falso vangelo superficiale che illude ma qui Pietro dice che mediante la conoscenza di Cristo che riceviamo tutto ciò che riguarda la vita e la pietà cosa significa chi conosce Cristo ha una vita spirituale conforme una scrittura ed è devoto al Signore conferme Matteo 7 21 ricordate Gesù disse non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel Regno dei Cieli ma chi avrà fatto la volontà del Padre mio chi è che dimostra di conoscere Cristo colui che fa la volontà del Padre che è devoto al Signore infatti dirà a coloro che diranno Signore Signore non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo ho cacciato demoni e hai fatto in nome tuo molte opere potenti non ho pregato tante ore al giorno non ho frequentato una chiesa evangelica per anni non ho letto la Bibbia allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me malfattori non basta professare ma chi avrà fatto la volontà del Padre è colui che ha quella vita spirituale devoto al Signore che dimostra di conoscere Cristo ma non solo un'altra conferma l'Apostolo Paolo i Romani 6 Romani 6 22 ascoltate quello che dice Paolo ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna non solo la salvezza ma c'è la santificazione come frutto dell'obra di Dio che richiede obbedienza certamente che ci sarà però quando quando mediante la potenza divina di Cristo abbiamo ricevuto tutto ciò che riguarda la vita e la pietà non solo l'autore e gli ebrei ebrei capitolo 12 versetto 14 impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore wow la santificazione che manifesta la conoscenza reale di Cristo non solo Giacomo che parla della fede e servifica 2 14 a che serve fratelli miei se uno dice di aver fede ma non ha opere può la fede salvarlo risposta no 26 infatti come il corpo senza lo spirito è morto così anche la fede senza le opere è morta la fede salvifica in Cristo si manifesta con delle opere con la vita perché Pietro ci dice perché per mezzo della conoscenza di Cristo salvifica abbiamo ricevuto tutto ciò che riguarda la vita spirituale e la pietà non solo l'Apostolo Giovanni in prima Giovanni 2 3 da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti non è la mia parola questa ok Giovanni sospito dallo Spirito Santo dice da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è lui ma chi osserva la sua parola in lui l'amore di Dio è veramente completo da questo conosciamo che siamo in lui chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò conoscere Cristo salvificamente implica una vita spirituale una devozione una devozione al Signore abbiamo considerato la natura del dono divino la natura del dono divino abbiamo poi considerato il mezzo per ricevere il dono divino della salvezza e ora il risultato del dono divino il risultato del dono divino dice attraverso queste ci sono state elargite donate le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse queste promesse voi diventasse partecipi della natura divina per mezzo di Cristo dalla conoscenza di Cristo abbiamo ricevuto tutto ciò che riguarda la vita della pietà abbiamo ricevuto queste promesse da Cristo mediante il Vangelo e attraverso queste promesse dice qual è il risultato perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina ecco il risultato delle promesse del Vangelo della conoscenza salvifica di Cristo giungiamo a diventare partecipi della natura divina per mezzo di Cristo delle sue promesse noi partecipi condividiamo letteralmente la natura divina qui parla di una realtà presente ma attenzione non sta dicendo che siamo dei piccoli dei no non significa che diventiamo dei piccoli dei ma significa che per mezzo di queste promesse come risultato della potenza di Cristo noi diventiamo partecipi della natura divina ovvero il credente diventa una nuova creatura questa è la rigenerazione prima Pietro 1.23 diversa terminologia ma lo stesso messaggio c'è una nuova creazione seconda corinzi 5.17 per mezzo della conoscenza salvifica e di queste promesse giungiamo a diventare delle nuove creature una nuova vita l'Evangelo è in mezzo per questa nuova vita prima Pietro 1.23 rigenerati mediante l'Evangelo il credente partecipe della natura divina il credente diventa figlio di Dio non è più figlio d'Ira non è più figlio del diavolo ma è figlio di Dio ha una nuova vita infatti aggiunge letteralmente essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo questo è il credente il credente ha una nuova natura una nuova vita è figlio di Dio ha comunione con lui e non è più partecipe della corruzione di questo mondo c'è un cambiamento radicale questa è la conoscenza salvifica questo è il risultato della potenza divina di Cristo non più partecipi della corruzione del mondo qui si riferisce questo termine corruzione significa distruzione e qui è spirituale questa corruzione morale ora non siamo più corrotti moralmente ma siamo figli di Dio liberi dalla corruzione del mondo libri dalle conseguenze questa corruzione del mondo che tra l'altro è a causa dice della concupiscenza si riferisce a questi forti desideri peccaminosi in questo contesto questi desideri forti peccaminosi questa idolatria che porta poi alla corruzione morale la schiavitù dei desideri peccaminosi che portano a vita immorale alla corruzione ebbene il credente ha una nuova vita non crea lui qualcosa ma una nuova vita possiede la vita eterna non è più corrotto moralmente non è più schiavo dei desideri peccaminosi ma come risultato dal dono divino della salvezza ora è libero dalla rovina morale a una nuova vita perché partecipe della natura divina questo è quello di cui parla l'apostolo Paolo per esempio in Efesini capitolo 4 4 20 ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo imparare la conversione seppur gli avete dato ascolto in lui siete stati istruiti secondo la verità che in Cristo avete imparato per quanto concede la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità questo è il credente una nuova vita perfetto? no assolutamente no ma una nuova vita una nuova esistenza una nuova natura questo è il credente perché è importante ricordare ciò perché Pietro scrive questo dei credenti in questa lettera ricordate versetto 12 dice perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose benché le conosciate e siate saldi nella verità che presso di voi ricorda verità che conoscevano importanti per noi anche oggi perché è importante ricordare ciò perché il dono divino della salvezza è il fondamento della vita cristiana colui che partecipe della natura divina rigenerato può vivere una vita cristiana è in grado sì è in grado in virtù del dono divino della salvezza può il credente camminare fedelmente e difendersi dai falsi insegnamenti dai falsi insegnanti avere discernimento pietro rivolgerà queste esortazioni dal versetto 5 in poi a coloro che erano partecipi della natura divina il credente può in cristo può vivere la sua vita in modo fedele il dono divino della salvezza di questo pietro parla in questi due versetti prima cosa la natura di questo dono abbiamo visto che il credente è il risultato della potenza divina di cristo cristo ci ha donato permanentemente tutto ciò che riguarda la vita spirituale e la devozione il credente in cristo mediante la sua potenza possiede tutto ciò che è necessario per la vita spirituale non manca di nulla alla vita spirituale alla certezza della sua perseveranza perché perché la potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e non solo anche la pietà ovvero la devozione il credente salvato può ubbire è in grado e desidera essere devoto al signore e tutto questo a motivo della potenza divina di cristo qual è il mezzo per ricevere tutto ciò che riguarda la vita e la pietà la conoscenza salvifica di cristo la conoscenza salvifica di cristo è il mezzo affinché riceviamo tutto ciò che riguarda la vita e la pietà questa conoscenza salvifica mediante il sano vangelo cristo che ci ha chiamati sovranamente è una chiamata interiore ci attira a sé manifestando la sua gloria è virtù non è una conoscenza intellettuale non basta in cristo abbiamo ricevuto anche le promesse sue preziose grandissime la certezza del nostro futuro glorioso della nostra salvezza e qual è il risultato diventati partecipi della natura divina una nuova vita liberi dalla corruzione del mondo liberi dalla schiavitù del peccato capaci di trionfare e di lottare contro il peccato questo è il credente è il frutto della potenza divina di Cristo fratelli questa è una verità totalmente sconosciuta oggi nel mondo del gengo basta far fare una preghiera basta persuadere qualcuno a dire sì a Cristo basta convincere basta pregare entrare in chiesa cose giuste di per sé ma Pietro ci ricorda che per essere salvati per avere una vita spirituale e per essere devoto al Signore è necessaria la potenza divina l'opera miracolosa di Dio di Cristo fratelli e sorelle amici il credente è il frutto di questa potenza divina quanto importante è questo sapete perché? perché coloro che vengono accompagnati a credere persuadendoli umanamente non sono in grado di vivere la vita cristiana e non ci sarà la testimonianza per la gloria di Dio non ci sarà la luce perché non c'è salvezza fratelli ecco perché predicare il sano Vangelo perché vogliamo essere luce sale ma non potremo essere luce se Cristo non dimora a noi se non c'è la sua potenza divina il credente è il frutto della potenza di Dio di Cristo non solo conosce Cristo salvificamente non è semplicemente una conoscenza della mente ma una conoscenza intima in virtù della chiamata di Dio sovrana Cristo ci ha chiamati ci ha tirati a sé manifestando la sua gloria la sua virtù è un convincimento interiore non solo il credente diventa partecipe della natura divina ha una nuova vita ha una nuova vita una nuova natura sapete cosa significa tutto questo? Che il dono divino della salvezza rende possibile la vita cristiana e di conseguenza ci responsabilizza non c'è nulla da attendere quale inganno pensare che se c'è una difficoltà nel mio cammino è perché Dio forse ancora non ha donato a me qualcosa che ancora non noi come mai per quale ragione no in Cristo possiamo e il credente attende qualcosa misticamente che non arriverà mai e poi basterebbe semplicemente guardarsi allo specchio della Bibbia e confessare le proprie iniquità e abbandonarle siamo disposti a fare ciò? Siamo disposti a impegnarci? Sì a sforzarci a essere disciplinati? C'è un'idea corrotta sapete? Che è questo il credente salvato non deve poi disciplinarsi impegnarsi lui naturalmente riesce a vivere spiritualmente non è così Paolo un esempio del suo impegno della sua determinazione ma il credente può fare ciò perché è salvato questa gioia l'incoraggiamento per noi grande incoraggiamento grande incoraggiamento il credente può non attendiamo qualcosa da Dio perché Dio ha già provveduto tutto ciò che riguarda la vita e la condotta la pietà la devozione se c'è una mancanza se c'è una difficoltà è perché non vogliamo confessare i nostri peccati esaminandoci non vogliamo abbandonarli non vogliamo impegnarci ci interessa forse qualcos'altro fratelli che questo messaggio che questi due versi ci portino davvero a esaminarci perché Pietro poi dirà per questa ragione a motivo di ciò mettendoci da parte vostra ogni impegno nostra responsabilità ma è possibile è possibile quale gioia e incoraggiamento abbiamo nel comprendere che in virtù di questa potenza divina di Cristo questa chiamata sovrana noi ora partecipi della natura divina possiamo vivere una vita cristiana senza giustificarci Pietro presenta il fondamento per la vita cristiana prima di esortare ricorda ciò che noi dobbiamo ricordare noi stessi dono divino della salvezza è perfettamente sufficiente per poter vivere la vita cristiana Pietro ci esorterà alla vita al cammino che ci sia di conseguenza l'umiltà da parte nostra di confessare le nostre levità di esaminare cos'è che non va nel nostro cammino perché Dio ha operato Dio ha potentemente operato il credente è una nuova vita come Paolo dice e con questo voglio terminare seconda Corinzi 5 17 se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove questo è il credente questo è il credente che può vivere la vita spirituale ed essere devoto al Signore in virtù del dono divino della salvezza perfettamente sufficiente per la vita cristiana grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.